Fino al 24 aprile nella Biblioteca della Regione in Via Confienza Torino è visibile la mostra Italia 61, esposizione internazionale per il primo centenario dell'Unità d'Italia. Nell'allestimento manifesti, immagini e oggetti ricordo. Collezione e catalogo di Mario Brate e Piero D'Alessandro dell'Associazione Amici di Italia 61. Questa mostra per ricordare il periodo di Italia 61, per ricordare un periodo particolarmente felice per l'Italia, uscivamo dal dopoguerra, dopo 15 anni si era in pieno boom economico e la nostra associazione nasce proprio per quello, nasce sull'onda di appassionati e collezionisti completamente innamorati della propria città che vogliono cercare di far conoscere a chi non c'era, quindi ai giovani, un periodo particolarmente felice e di far ricordare invece a chi c'era un periodo altrettanto felice della loro giovinezza.